Questo lungo brano, se si legge la versione lunga del testo del Vangelo, come consigliamo sempre, perché più parola di Dio, il popolo santo di Dio ascolta meglio, perché ci fa sempre tanto bene, questo lungo brano è ben composito, però gira attorno a delle tematiche, che sono le tematiche molto simili al problema della sapienza. C'è un problema di sapienza, mentre la prima apparenza sacrosanta è che, perlomeno la prima parte del Vangelo, parli fondamentalmente del rapporto con i beni di questo mondo, in realtà questa cosa lentamente trasla verso tutto quello che è il rapporto con questo mondo. Noi vediamo che c'è una sapienza, c'è qualcuno che è sapiente, quindi si fa borse che non invecchiano, si fa un tesoro sicuro, uno che infatti ha un cuore posto nelle cose azzeccate, ha un cuore, cioè ha a cuore quello che veramente conta. E' qualcuno che sa come si aspetta il padrone, cioè come si aspetta il momento del rendiconto, perché il padrone tornerà dalle nozze, tornerà dalla sua festa e noi dobbiamo sapere riaprire subito, cioè essere servi, sapienti. Come si fa? Con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Ma che razza di indicazione è questa per la mia vita? Dunque, le vesti strette ai fianchi vuol dire che non sono discinti, cioè vuol dire che qualcuno è pronto a partire e le lampade accese vuol dire che uno sta pronto ad affrontare la notte. Questo tipo di linguaggio rievoca la Pasqua ebraica, che è una notte di veglia perché il Signore passerà, per cui si fa con i fianchi cinti, stando con la luce di un'attesa. Ecco, vivere con i fianchi cinti, vivere con le lampade accese vuol dire che c'è un modo di vivere che non calcola la prontezza al partire, la prontezza al cambiamento, mentre c'è una vita che è preparata per il cambiamento. Perché, infatti, se andiamo avanti, il padrone torna e dovrà trovare i suoi servi ancora svegli. Che cosa vuol dire qui? Che qui non si dorme più e qui dobbiamo stare sempre, andare avanti a caffè o cose di questo genere? No, qui si parla di un altro tipo di veglia, di una vita vigilante, di una vita che ha occhi per vedere, orecchie per ascoltare, che ha un cuore vigile, che sta pronta, questa vita, a che cosa? Al padrone che ritorna, all'incontro con colui che loro dovrebbero servire e che scopriranno lui servirà loro, ovvero sia essere pronti alla visita. C'è chi cerca sempre la situazione definitiva, si illude, ora mi sposo, così, così niente, poi comincia un'altra battaglia, cara sorella o caro fratello. Ora trovo il posto fisso, speriamo che lo trovi, oggi come oggi non è proprio così facile, ma una volta che lo trovi comincia un'altra battaglia. Ora finisco di pagare il mutuo e una volta che vieni a pagare il mutuo comprerai qualcos'altro, perché di fatto noi crediamo che esista la situazione stabile, questa è la grande illusione dell'uomo, che ci sia il punto di arrivo. Uno continua a sperare di trovare un punto, invece trova sempre virgole, così è la vita. Uno pensa sempre di trovare, oh qui mi fermo, qui sono arrivato e invece no, la vita è costante cambiamento, costante vigilanza. Questo non ci deve mettere in tensione, ci deve mettere nella vitalità, è un'altra cosa. Altro è l'oppressione, la tensione, l'apprensione, altro è vivere, altro è essere vitali, essere mobili, essere disposti a cambiare, disposti a essere sorpresi. C'è una nostalgia di stabilità che in fondo, in fondo, in fondo è un'illusione mortifera nel cuore dell'uomo. Questo fatto di fermarsi, essere senza nessuna variazione, assomiglia tantissimo alla morte. La morte sarà il posto dove non ci saranno tasse da pagare, vicini che ci disturbano, molestie di vario genere, telefonate o cose simili. La morte sarà il posto dove non ci sono più variazioni. Noi abbiamo un ideale di vita che è un ideale statico, necrotizzato. Noi siamo chiamati invece alla vita, alla costante evoluzione, alla costante scoperta del reale. Ecco, essere pronti alla visita. Dice questa cosa qui, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché c'è un ladro. Perché può avvenire come un ladro il momento della sorpresa, come qualche cosa che ci disturba, ci molesta, ci manda per aria e invece non può avvenire così. Ma come possiamo essere sorpresi dalle novità? Ma come possiamo essere noi, come dire, deragliati, messi in difficoltà dal fatto che l'assetto delle cose cambia? L'assetto deve cambiare, ripetiamo. Allora qui si tratta di capire la domanda di Pietro, che tutto a un tratto compare, mentre si parla abbastanza genericamente. Pietro compare e dice, signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? La risposta del signore non è diretta, anche se si capisce che fa una distinzione. Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente? Che padrone metterà a capo della sua servitù? Ovvero sia, ci sono tutti e c'è qualcuno che ha un compito. A ben vedere questa parola principalmente per chi ha autorità nel greggio di Cristo, sicuramente è per noi sacerdoti, sicuramente è per i vescovi, ma in realtà tutti quanti abbiamo autorità su qualcuno, tutti quanti ci dobbiamo occupare di qualcun altro. Tutti siamo chiamati a vegliare gli uni sugli altri e ad amministrare la vita degli altri, non nel senso di spadroneggiarla, ma nel senso di prendercene cura. Ed ecco che il signore mette da un'amministrazione a un amministratore fidato e prudente. È interessantissimo questo perché ci permette di capire un pochino, sotto un'altra prospettiva, tutto il discorso che abbiamo fatto. Questo amministratore è fidato e prudente. Fidato rispetto a chi? È l'affidabile. Questo è riguardo al padrone. Il prudente a cosa fa riferimento? A come agisce. Allora in realtà questi due aggettivi riguardano uno, il rapporto con Dio. L'altro è il rapporto con il prossimo, l'altro è il rapporto con colui a cui dovrai dare la razione di cibo. Chi è padre di famiglia, chi in un luogo di lavoro ha una responsabilità, ma chiunque porta avanti qualsiasi operazione deve essere prudente, sapiente, saper usare le cose secondo razione, che viene dalla parola razio, cioè dalla ragionevolezza, e cioè sa quando dare cosa dare, ma questo è proprio ogni giornata della nostra vita. È interessante che questa è una conseguenza, prima viene l'essere fidato, cioè dal rapporto con Dio deriva il rapporto con gli altri, dal fatto che io ho un rapporto di fiducia con Dio, ho un rapporto di reciproco abbandono, Dio mi dà le sue cose, abbandona le cose che sono sue nelle mie mani, perché io le amministri, perché io mi sono abbandonato nelle sue mani. Oh, tante volte noi crediamo che sia saggio farsi prendere dai problemi, noi pensiamo che la cosa che abbiamo da fare più urgentemente è capire la situazione, anche, ma è meglio farlo dopo aver fatto un'altra cosa, prima avere un rapporto con Dio, prima essere nell'intimità con Dio, quindi leggere i problemi. Se facciamo il contrario, noi facciamo un lavoro di pronto soccorso, mentre se facciamo questo lavoro che stiamo consigliando, cioè quello di essere prima nella fiducia, quindi nella prudenza, ne consegue che uno ha uno stato di possesso. Infatti tutto questo testo che parla di tutto questo rapporto con la realtà, con le sorprese, con i beni, parte da un possesso. Non temere, piccolo greggio, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Avere il regno da Cristo, questo è il punto. Perché poi siamo pessimi mariti, pessimi preti, pessimi amici, pessimi lavoratori? Perché non possediamo niente, quindi dobbiamo cercare il possesso nelle cose che facciamo e quindi diventiamo disordinati e ansiosi. Quando noi partiamo dall'essere innanzitutto figli di Dio, innanzitutto essere piccolo greggio, inondato di tenerezza e di abbondanza da Dio, ne consegue finalmente che io so, con questo stato di serenità, con questo stato di aver superato già l'esame fondamentale della mia vita, che è la mia identità, avendola ricevuta da Dio e a Dio consegnata, ecco che io so cosa devo fare, io so come stare. Molto spesso i disordini della nostra vita vengono dall'oblio di chi siamo, dall'oblio della nostra verità. Allora iniziamo a chiedere alle cose che facciamo, iniziamo a chiedere alle gozzovie, qui si parla di qualcuno che in cuor suo dice il mio padrone tarda a venire, ovvero il rapporto con Dio non è così urgente, non è così primario, vabbè d'accordo il padrone, le cose, pregare, vabbè dai, un'altra volta lo faccio. Con sequenza io inizio a mangiare, bere e ubriagarmi, cioè devo cercare compensazioni, perché se io non ho l'essere da Dio, da qualche parte lo devo cercare, il vuoto nella vita spirituale non esiste, neanche nella vita reale. Se io non ho in Dio il mio essere, lo devo piazzare da qualche altra parte. Noi siamo chiamati a delle responsabilità, siamo chiamati tutti quanti a esercitare un'amministrazione, questa sorge dal rapporto con Dio, altrimenti è burocrazia e molto spesso è inganno e malgoverno. grazie a tutti. Grazie a tutti